Mamma mia, mamma mia, sono quasi emozionato, ho fatto un passaggio in un posto dove il medioman potrebbe avere dei momenti di pura sana e euforia tendente all'eccitazione. Che ci stanno? Stanno a far vedere dei porno? No. Gnocchi e quantità? No. Prodotti italici? Prodotti eutonici? No. A far grader soffione, anzi questo è il viale dei soffioni che sfocia e sbocca in amaglie l'ho fatta e poi l'angolo viale autostima allo svincolo con... oh ma che c'è la più grossa? Mamma mia, il regimen qua c'è una che si è barzottisce tutto. Ho messo 5 soffioni, ho speso 5 sacchi, ho fatto 70 durata in ciò, fino a lì non posso più partire, però se fanno dei torci ne dobbiamo accendere una volta e ne esce poco poco un picciolacchio perché a milla quarti anni la pressione è quello che è, però no, io l'ho fatta, guarda quanti centimetri, guarda le dimensioni dei soffioni, secondo te sto male, viale dei soffioni, dalle qua Marlena dove il medioman raggiunge l'apoteoso, secondo te sto male? Viva la vita, tutta la vita, so verità, ho la presunzione di dire che so verità, stans! Viva la vita, tutta la vita, stans!